Avete apprezzato tantissimo il video sulle impostazioni grafiche, sul controller, sensibilità, fov eccetera. Quindi ho deciso di fare una versione aggiuntiva riguardante solo le impostazioni dell'audio. Ho sentito moltissimi pareri, visto molti video, soprattutto anche video da TikTok o comunque di persone che fanno mari live. E fondamentalmente tutti consigliano una singola opzione. Oggi comunque andremo a vedere tutte le impostazioni audio che vi consiglio, tutti i vari settaggi e delle cose che molti trascurano. Ma secondo me sono molto importanti. O comunque possono aiutare molto a rendere il tutto molto più clean, diciamo così. Grazie comunque del supporto che mi state dando. Io vi ricordo ragazzi se volete lasciare un like, un commentino dicendomi ovviamente cose che ne pensate del video. Ed iscrivervi al canale se ancora non avete fatto. Me ne sono veramente super grato. Nell'ultimo periodo veramente mi state facendo sentire un sacco di calore. Quindi ragazzi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a parlare delle cose importanti. Ah no raga prima vi faccio vedere una cosa super figa che hanno aggiunto su eneb.com. Ovvero la skin del Burger King, quella che in Italia non è disponibile. Siccome costa soltanto 84 centesimi, io raga vi consiglio di darci un'occhiata a eneb.com, link in descrizione. Giochi, abbonamenti, ricariche super scontati. Dateci un'occhiata perché non rimarrete assolutamente delusi. Scusate questo piccolo stop bulicitario. Mi tenevo appunto a dirvi che c'era questa skin. È davvero una figata, infatti l'acquisterò subito. E visto che in Italia non è disponibile appunto ho fatto questo piccolo spot. Torniamo a parlare di audio. Andiamo su impostazioni, poi ovviamente su audio. E queste sono di base le impostazioni che consigliano tutti, ma non quelle che consiglio io. L'impostazione che tutti consigliano è Home Theater. Ora piccola premessa. Io utilizzo raga delle Astro A40TR. Sono convinto che ogni tipologia di cuffia produce ovviamente dei suoni diversi. E quindi è impossibile che l'impostazione che va bene per me vada bene anche per te al 100%. Quindi bisogna fare ovviamente dei test. Però ovviamente non sono qui per dirvi provate cavoli vostri. Vi dirò le mie impostazioni. Se volete ragazzi in descrizione vi aggiungo anche qualche modello di cuffia. Che magari in questo periodo è particolarmente buono e anche molto scontato. Visto che siamo in tema di sconti. Vediamo un pochino. Date un'occhiata ovviamente anche alla descrizione. Quindi ragazzi questa è l'opzione che più consigliano tutti quanti. Io ho provato molto bene PC cuffie e potenza bassi cuffie. Home Theater non mi piace. Sinceramente, parere personale, baglierò. Ho provato cuffie, è molto buono. Però alza moltissimo tutti gli effetti che ci circondano. Quindi anche esso non mi convince. Però i passi li sentivo meglio rispetto all'Home. Potenza bassi cuffie, anche esso buono. Però non mi convince al 100% perché è molto forte. Quindi non mi convince. L'impostazione che più mi è piaciuta è stata PC. Tiene tutto ad un livello molto equilibrato. Si sentono bene i passi dal mio punto di vista. Queste sono le impostazioni che più consiglio. Volume generale 100. Volume musica 10. Potete anche metterlo a zero ovviamente. Volume voci 40. Volume effetti. Tenetelo al massimo. Indicatore colpi 30. Audio mono no. Adesso andiamo a vedere delle impostazioni che molti hanno trascurato dal mio punto di vista. Sottotitoli raga io sinceramente li disattivo. Queste impostazioni sono molto importanti. Io non so voi raga se usate la chat di prossimità per trollare ci sta. Però se volete fare delle belle partite poco da fare vi spottano. Quindi queste secondo me sono le impostazioni migliori. Io parlo su Discord con i miei boys e le devo parlare in chat di gioco. Ho un tastino. Lo premo e mi attiva la chat di gioco. Quindi metto premi per parlare. Tengo appunto attiva la chat di prossimità così spot i nemici. Meglio di così. Intanto io sto parlando in un'altra parte quindi loro non mi sentono. Questa è una furbata che appunto che da PC e da Xbox penso può fare. Perché c'è Discord anche su Xbox. Su PS5 non lo so. Quindi se siete da console PS5 date un'occhiata su Google e magari trovate qualche informazione. Il volume della chat vocale io metto 20. Tanto mi serve soltanto per spottare. Il microfono vedete ce l'ho al volume 0. Qui sotto ragazzi c'è un'impostazione che molti trascurano. Voi molto probabilmente avete settato su MV. Dal mio punto di vista sono dei suoni un po' più forti. Io vorrei qualcosa di un po' più clean. E secondo me classico è leggermente meglio. Quindi ragazzi teniamo classico. Mi sono accorto adesso che c'è un'impostazione che a me potrebbe fare anche comodo. Visto che sono anche mezzo sordo. Infatti in questi giorni raga la proverò. Anzi l'attivo già ora così vediamo un pochino. Piccolo finale. Chi utilizza le astro io consiglio la quarta opzione. Ovvero quella torneo mi sembra che sia. Quindi ragazzi poche parole. Ognuno dovrà provare le varie impostazioni. E scoprire veramente quali sono più ottimali per le proprie cuffie. Io vi consiglio appunto l'impostazione PC. Piccola parentesi se siete da console non so se c'è l'opzione PC. Quindi in quel caso dovreste provare qualcos'altro. Spero comunque ragazzi che questo video vi sia utile. Vi aspetto belli attivi nei prossimi giorni. Perché ci saranno un sacco di content. Grazie mille a tutti quanti per la compagnia e per il supporto. Qua da Gianni è tutto. Ci becchiamo. Bella raga. Ciao. 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 Grazie a tutti